Un continuo incontrare se stessi, perdersi nei ricordi e nelle emozioni, vacillare tra i sogni e la dimensione terrena. Sono questi i temi portanti della Passione Pazza del Diavolo, il libro di Antonio Sergi, giornalista pubblicista per la Gazzetta del Sud e ricercatore sociale che ha presentato il suo ultimo lavoro a Gioiosa Ionica presso Palazzo Maduri. La Passione Pazza del Diavolo è fondamentalmente un continuo incontrare se stessi e quindi anche un continuo incontrare gli altri attraverso i ricordi, le emozioni. Quello che è stato, quindi i ricordi, è quello che comunque non è mai stato e forse anche e soprattutto per questo rimane. Resta, restano i baci dati e restano anche i baci non dati. Sono le passioni terrene ma sono anche le passioni immortali, le passioni relative alla spiritualità. Infatti io cerco di rimarcare nel volume come sia fondamentale un approccio fondamentalmente alla spiritualità, alla fede che se non hai puoi anche studiarla per fartela cadere addosso e non c'è comunque catechismo che tenga e un percorso individuale che poi diventa collettivo. Fondamentalmente questa è la Passione Pazza del Diavolo ed è soprattutto la volontà di mostrare quello che più di intimo c'è nell'agire quotidiano di ognuno. Ecco, è anche un dare senso alla quotidianità e cercare tutti i sogni che magari rimangono addormentati sul cuscino, di portarli appunto a una dimensione più quotidiana, più terrena. È lo straordinario nel quotidiano. Sono le piccole cose a cui magari non si dà importanza. Sono le sfumature della vita. Io quindi cerco di riportarle, di rimarcarle in questo volume. Sono oggi qui e sono contentissimo di esserci, sono contentissimo che ci sia tu, sono contentissimo di Nicodemo Vitetta che mi ha dato questa possibilità in questo bellissimo libro d'amore che è Palazzo Amaduri. Quindi diciamo che sono veramente orgoglioso di far ritorno in questo territorio anche perché sono reggino, quindi venire anche in provincia per me è sempre una grande e bellissima conquista. La conquista è più grande che io posso in qualche modo regalarmi visto che me l'ha regalata anche il territorio, è una consapevolezza sostanziale e lo dico sempre, non mi stancherò mai di ribadirlo, che è più importante ascoltare che essere ascoltati, guardare che essere guardati e soprattutto è importante amare che essere amati.